Però come si fa a dire, no, è una concessione del futuro, la puoi comprare dove vuoi, te la consegniamo a casa, però l'esperienza non è proprio uguale, no? Perché in concessione ci posso andare, la posso toccare, posso venire a romperti le scatole tutti i giorni. Anche così, perché noi siamo sui social sempre, noi facciamo un'uscita al giorno, su Facebook, su Instagram, su YouTube, trovi sempre una novità, sempre. E poi su questo faccio una parentesi, noi vendiamo Suzuki, quanti modelli ha la Suzuki? Quattro, adesso sei, da sempre, sono sempre le stesse sei macchine, usciamo tutti i giorni, evidentemente non parliamo di macchine, non appena di macchine. Pensa se dobbiamo fare, vedi, sei modelli sempre in grigio, terribile, no? Almeno ci buttiamo un po' sul colorato. Bene, e poi alla Perugia Motori la parola impossibile non esiste, ogni tanto ci chiamo in cliente, guarda, mia moglie ha partorito, mi piacerebbe farle trovare la macchina sotto casa. Vai, facciamo 25 anni di matrimonio, sorpresa, faccio finta di portagliela a far vedere e invece la sveliamo alla grande, filmato, si condivide. Cioè, qualsiasi cosa un cliente vuole fare, non solo gli diciamo sì, ma è quello che rende interessante la vendita. Ma tu ti rendi conto, io ho 35 anni, no? I miei vendono le macchine che adesso hanno 70 anni. Ma tu ti rendi conto, se io dovessi pensare di arrivare a 70 anni, di vendere la macchina sempre uguale? Questa è la sua macchina, questa è la sua macchina. È presente nel concessionario dove ti, oh la tua macchina, ti tirano le chiavi, ciao, grazie. Terribile, ma come fai a mettere la macchina sotto l'ombrello e sei così? Invece questo rende la macchina una roba eccezionale. E questo è un po' quello che facciamo. Che bello. Grazie.